Oggi vi racconto con che visto sono in America, perché ho scelto questo visto, come faccio a stare qua, come trasferirsi e perché in realtà dovrò andarmene relativamente presto, ma un pezzo alla volta. Insta360, che tra l'altro sarà breve in offerta, vi lascio il link al mio canale Telegram per avere tutte le offerte, gli errori di prezzo su Amazon, insomma restare sempre aggiornati per qualsiasi cosa succeda. Ebbene, perché mi trovo qua a Dobokken con la vista sulla città? Perché questa città è sempre stata un po' il mio sogno nel cassetto e oggi finalmente sono qua, ma purtroppo dovrò andarmene presto. Lasciate che vi spieghi. Sono qua da ormai praticamente sei mesi, quando all'inizio di quest'anno vi ho detto mi trasferisco in America e perché la mia intenzione è quella di trasferirmi qua ed è quello che farò. Ovviamente non è per nulla semplice spostarsi in questo paese, ve lo posso assicurare, anzi è una delle robe più difficili di sempre. Ma perché una delle robe più difficili di sempre? Perché a differenza del periodo di Ellis Island che vi ho raccontato l'altro giorno, in questa epoca storica l'America ha abbastanza migranti da volerli tenere fuori. E in generale cercano di tenere fuori chiunque non sia fondamentale, che è molto triste come cosa, ma è così. Ma ecco, al di là delle robe politiche o qualsiasi cosa che possa essere, il punto che vi voglio raccontare oggi è come faccio io ad essere qua. E come vi ho accenato ci sono dei problemi tecnici, ma ci arriviamo. Io ho scelto il visto O1, che è il visto artistico, che ti danno in caso di particolari competenze e capacità nel tuo ambito. Quindi vengono considerati in questo visto attori, cantanti, artisti in generale, ma anche dottori famosi, piuttosto che qualsiasi sia la tua professione che si porti con te sostanzialmente dei riconoscimenti o qualcosa per dimostrare che puoi essere un valore per questa nazione. Ora, quali sono i requisiti di questo visto in particolare? Ma prima ancora di partire con qualsiasi altro requisito, il più importante, che vi faciliterà tantissimo tutto il processo, è conoscere l'inglese. E ora voi vi chiederete, ok, però a scuola non l'ho imparato così bene, come posso migliorarlo prima di venire qua se devo per forza migliorarlo? Ho la soluzione per voi, potete impararlo prima di arrivare qua con Lingoda, che è una scuola di lingue online che potete seguire tranquillamente da casa. Le lezioni avverranno in chiamate Zoom con un professore che vi insegnerà la lingua che sceglierete, ad esempio in questo caso l'inglese. Le lezioni sono generalmente di 60 minuti, dai 3 ai 5 studenti per classe. Potete ovviamente scegliere il livello che vi interessa, magari avete già tutte le basi quindi volete qualcosa di un pochino più avanzato. E al momento Lingoda offre la Language Sprint Challenge, che vi permette di avere tutte le basi per la lingua, o per migliorare notevolmente il vostro inglese, in uno sprint di 30 giorni. Quindi nel corso di 30 giorni vi insegneranno tutte le basi, o migliorerete il vostro inglese in base al livello che sceglierete chiaramente, che vi servono in questo caso per l'inglese, lavorandoci di giorno in giorno. E non importa se lavorate, se avete scuola, potete programmare le chiamate in qualsiasi momento, perché hanno lezioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 praticamente. Quindi vi basta scegliere lo slot che vi interessa, verrete inseriti nella classe per poter completare questa challenge di 30 giorni. In ogni caso, anche se deciderete di continuare a studiare con loro, potrete sempre farlo tranquillamente in base ai vostri impegni. Se finirete la challenge, avrete il 50% di cashback, oppure altre classi gratuite per continuare a migliorare il livello di inglese, equivalenti al 100% del prezzo che avranno queste classi. L'ingoda che io ho provato, ho fatto una lezione, che per quanto fosse super di base, è stata molto interessante, e secondo me è strutturata bene. Trovo sia un buon modo per imparare l'inglese, che vi ripeto, è fondamentale se il vostro obiettivo è anche solo venire qua. Voi certo, una volta qua lo imparerete, ma almeno delle piccole basi vi aiuteranno tantissimo a integrarvi nel modo giusto per conquistare questa città. Quindi, se provate l'ingoda, fatemi sapere come vi trovate, voglio capire se veramente può esservi utile e può fare per voi. Cioè, tutto quello che vi racconto qua, come sponsor del canale, ci tengo che possa essere utile per voi e per i vostri obiettivi, e che vi faciliti la vita, vi dia del valore. Fatemi sapere. Ok, quindi, al di là dell'inglese, che è veramente importante, quali sono gli altri requisiti per un visto nel mio caso? I requisiti fondamentali sono diversi. Io, quando sono arrivato qua, ho fatto delle chiamate con un avvocato, che mi ha spiegato esattamente come funzionano tutte le cose. Per farvela molto semplice e breve, c'è bisogno di articoli di giornale, c'è bisogno di numeri fondamentalmente, quindi il mio canale YouTube, tutti i social che ho, danno valore. C'è bisogno di lettere di raccomandazione di altre persone importanti nel tuo ambito, per donate le parole che userò, magari non sono le migliori, sono le più chiare per spiegarvi tutto quanto. Quindi, senza contare un determinato fatturato che può aiutare. Un altro requisito è un piano specifico dei prossimi tre anni, di quello che farai, dove lo farai, cosa farai, come darai valore alla nazione fondamentalmente. Il più specifico possibile con aziende che sottoscriveranno questo accordo, dicendo, sì, sì, siamo interessati a lavorare con questa persona nei prossimi tre anni, o comunque nel prossimo anno, poi c'è un'altra azienda per l'anno dopo e così via. Loro hanno bisogno di capire perché sei qua, qual è il motivo e che valore puoi dare. Ripeto per l'ennesima volta, ma è così. Più, insomma, qualche altro elemento, ma queste sono le caratteristiche principali. E quindi ora mi trovo nella situazione in cui sto raccogliendo tutte queste informazioni. Sono qua con un normalissimo visto turistico che mi dà la possibilità di stare fino a sei mesi. Non posso ovviamente lavorare, mentre con quest'altro visto potrei lavorare nel mio ambito artistico, creativo, per cui faccio l'application, che nel mio caso sarebbe content creator. Ma ecco, le persone a cui far firmare delle potenziali lettere le ho, qualche articolo di giornale c'è, qualcuno in più non farebbe male. Se scrivete articoli di giornale e volete scrivere un articolo di giornale su qualcosa che ho realizzato, che vi è piaciuto particolarmente, ben venga. Non importa la lingua in cui sono, a loro non interessa, però più roba c'è, meglio è. E io non avendo mai avuto un'agenzia stampa, un'agenzia in generale, un manager, niente, tutta questa parte di PR l'ho sempre un po' ignorata, perché mi sono detto io faccio le mie cose, questo è. Quindi ora avete una panoramica generale sulla cosa. E io mi trovo nella fase in cui appunto sto raccogliendo tutte queste informazioni per poterle poi mandare al governo tramite l'avvocato, solo che è una fase che richiede tanto tempo, soprattutto la parte di programmazione, che cosa farò nei prossimi anni, trovare delle aziende che vogliono effettivamente collaborare con me nei prossimi anni e che siano basate negli sagginiti, ovviamente. E quindi mi trovo in questa fase di stallo in cui non posso ancora fare effettivamente l'application, ma il mio visto sta scadendo, perché sono quasi sei mesi ormai, a fine ottobre dovrò lasciare il paese. E io ero incredibilmente convinto di riuscire a farcela, ma purtroppo nei prossimi episodi vi racconterò meglio che cosa è successo, ma ecco ci sono stati degli intoppi, per cui tornerò qua di sicuro a gennaio, ma a fine ottobre io dovrò lasciare gli Stati Uniti e non potrò tornare per il resto dell'anno. Nel frattempo continuerò a lavorare a questa application in modo da riuscire a inviarla il prima possibile e poi vedere insomma quale sarà il risultato. Ma ecco, questa è la situazione in cui sono io. Il mio consiglio se volete venire negli Stati Uniti è il seguente. Secondo me le opzioni migliori per voi sono, numero uno, fare un anno da au pair, quindi finirete in una famiglia, scegliete la zona dell'America e lavorate sostanzialmente come babysitter. E vi prendete cura dei bambini di una famiglia, di solito sono famiglie ricche che fanno questo, che seguono questo progetto au pair. Direi che vi potreste trovare in situazioni in cui vi trovate bene, poi sta a voi legare con la famiglia nel modo giusto, dipende da chi vi trovate. Ma è un buon modo per farvi uno o due anni qua e cominciare a tastare il terreno, perché poi una volta che arrivate qua la verità è che conoscerete persone, e quello è il vostro obiettivo principale, è conoscere più persone possibili che vi possano dare opportunità, perché poi funziona così. Più le conoscete, più opportunità, più possibilità avete di restare qua, facendovi sponsorizzare da qualche azienda che diventa per qualche motivo interessata a voi. Perché sì, le aziende più grosse di un tot possono sponsorizzare anche una persona normalissima di dire noi la vogliamo perché questa persona ci interessa, perché può fare questa cosa, quindi la vogliamo qua a lavorare per noi. Una volta sponsorizzati avrete la green card e con la green card potete stare a lungo termine qua senza problemi, ma non potete stare più di un anno fuori dagli Stati Uniti, perché altrimenti la perderete. E poi dalla green card nel corso degli anni potete richiedere la cittadinanza, è complicato, lunga, però ecco almeno vi dà la possibilità di stare qua se è quello che volete, ma quell'anno vi dà la possibilità di capire se questo posto fa per voi, perché non è così per tutti. L'altra possibilità che è più costosa, ma sto lavorando a un video che arriverà più avanti dopo questo daily vlog, legato a questo argomento, quindi iscrivetevi per non perdervelo, è legato alle università. Potete iscrivervi ad un'università, spesso ci sono dei, un po' di sconti per noi che arriviamo dall'esterno, perché hanno bisogno di diverse culture all'interno dell'università per avere degli score migliori nella lista di università della nazione e quindi alzare i loro prezzi fondamentalmente, ma per noi in alcuni casi può essere conveniente, non sempre, però quello è un altro buon modo, ci sono anche università decisamente meno care, la maggior parte sono carissime qua negli Stati Uniti, ecco questo può essere un altro buon modo per arrivare qua e cominciare a studiare, e poi una volta finito il percorso di studi finire a lavorare da qualche parte, di solito l'università ti spinge poi verso il mondo del lavoro. Queste sono le opzioni principali, potete venire come ho fatto io con un visto turistico, l'unica regola è che non potete lavorare in nessun modo e dovete dimostrare di avere abbastanza guadagni da poter stare qua senza problemi nel caso vi chiedessero qualcosa, nel senso che io sono qua, spendo i miei soldi qua, a loro frega niente se io spendo i soldi qua o da un'altra parte, finché il mio lavoro è in Italia, e per quello che faccio io posso essere in qualsiasi punto del mondo, non mi cambia veramente nulla, il mio lavoro è comunque in Italia dove pago le tasse eccetera eccetera, ma la regola è che non puoi stare più di sei mesi, anche col visto turistico che vale dieci anni, nel corso di un anno, da gennaio a dicembre, puoi stare un massimo di sei mesi, io pensavo che col visto turistico potessi uscire come fai con l'esta che invece dura tre mesi e poi rientrare, e invece no, la regola è sempre fare tutto nel modo più trasparente e pulito possibile così da non avere problemi, e se questo video può esservi utile o può essere utile a qualcun altro, inviateglielo oppure salvatevelo per un futuro, non si sa mai, a breve cominceranno grandi avventure su questi schermi, il video di oggi era un pochino più tecnico, ma ogni tanto ci tengo a raccontarvi delle cose e non solo intrattenervi, che è la mia cosa preferita, ma insomma... Grazie a tutti!